Prima commissione consigliare impegnata nelle audizioni sul bilancio, il primo incontro in programma oggi, quello con le società partecipate della Regione, con gli enti strumentali. Con oggi si apre la sessione di bilancio 2014, partiamo questa mattina con gli enti subregionali e le partecipate della Regione per poi proseguire nel pomeriggio e tutta la giornata di domani e venerdì mattina chiudiamo con l'audizione del Presidente e dell'Aggiunta nonché Assessore al bilancio. Con la sessione di bilancio l'attività amministrativa delle enti Regioni si ferma per poi, credo, arrivare in approvazione definitiva in Consiglio regionale il 9 e il 10 di aprile. Sarà un bilancio proiettato e programmato su una direzione che è quella che il centro-sinistra da circa un anno al governo di questa Regione si era dato e cioè punterà molto sul lavoro perché credo e crediamo che quella debba essere la direzione se vogliamo fare in modo che questa Regione riparti. Critico il giudizio espresso dall'opposizione. Un bilancio soprattutto tecnico e non politico e non economico. È un bilancio su cui andrete a leggere, su cui non ci sono poste molte risorse. Sappiamo quali sono i motivi ma sappiamo anche che potevano essere fatte scelte diverse.